Ciao, sono Alessandro Basilico, imprenditore del settore dell'energia. Ti consiglio di venire al book camp perché è un'esperienza stratosferica, io sono arrivato credo intorno all'80% del mio libro e se sei un imprenditore o comunque sei un manager che hai voglia di dire qualcosa nel tuo settore, vieni qua perché è il modo migliore per esprimere quello che hai da dire. Grazie.